Ciao a tutti, come scoprire se gli manchi? In alcuni casi, quando la relazione non va più per il verso giusto, quando ci sono dei problemi, quando ci sono delle tensioni, quando il pathos si è abbassato, bisogna provare a far vivere l'abbandono. Questo è un caso in cui poi dopo bisogna scoprire se manchi a quella persona. Ci possono essere invece situazioni diverse in cui tu vieni abbandonato. E' ovvio che se una persona ti lascia, in qualche modo si vive anche lei o lui l'abbandono. Per cui anche in questo caso è utile scoprire se gli manchi. Come fare nei due casi? Allora, se tu fai vivere l'abbandono perché vuoi rivitalizzare, diciamo così, la relazione, se vuoi dare un, diciamo, uno schiaffo emotivo, dare un carico emotivo, un carico tensionale,